Buona gara. Buona gara a tutti. Eccoci qua al terzo della terza gara della Master League. Come potete vedere, mi metto con la clinica e vediamo. Dopo manca l'appello a fare il seguito di uscita la connessione. Aspetta, vediamo un po' davanti come succede. Aspetta, vediamo un po' davanti come succede. Aspetta, vediamo un po' davanti come succede. Mauro, vediamo al primo posto, il Centro al settimo posto. Dalla Marti, c'è sempre l'opportuno perché non è attaccava, ma non c'è, perché non c'è. Perché non c'è, perché non c'è, perché non c'è, perché non c'è. E' stato inizio comunque gira l'amina ne hanno capito. E' siamo cost certificate inizio bene. Non ho girato avanti. Maверta. P halfway, l' 번io per finirlo. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti